Come funziona ancora? Appena passati in una zona molto bella, almeno da quella che ho visto io, case circondate da muragli e feri spinati e ci troviamo fuori con queste cose. Questa buca non si sa perché si è fatta questa buca, non si capisce. Forse l'avranno fatta per fare un fogno, oppure per l'acqua anche, quando che piove, raccogliere l'acqua piovana e poi usarla. Può essere che sia anche per questo, perché acqua qui non ce l'è. E tutto serve, immaginassi se non vengono le malattie, vengono chissà. Questa è tutta l'acqua che hanno a disposizione per lavarsi loro, per lavare i vestiti e poi dopo aver lavato i vestiti non buttarla via ancora perché servirà ancora. Questa è la casa della gente, dove vivono? E che c'è un odore tremendo da fitrino. Se non viene il colera qui dobbiamo dire grazie a Dio. E' un po' per povera. E' un po' per povera. Guarda che bello che è. Guarda, guarda. Guarda su, ecco, bravo, bravo. Vedete cosa stai mangiando.